Poca trasparenza e soprattutto poche notizie sui piani futuri del settore creditizio sul territorio. I sindacati lanciano un allarme sul quadro che si sta profilando, con il rischio di vedere ridurre sempre di più gli sportelli, diminuire il personale e lasciare in mano all'online il destino di tutti i correntisti. Le fusioni avvenute negli ultimi anni non hanno spiegato ancora cosa resterà sul territorio o in quale percentuale. Noi siamo convinti che bisogna alzare un pochettino il velo perché su questo si è parlato troppo e male e ad averne le conseguenze sono ancora oggi le robotizie lavoratori. Noi siamo convinti invece che il nostro compito è quello di ridare fiducia al territorio, il risparmio è fondamentale, l'occupazione sono le cose su cui noi dobbiamo lavorare nei prossimi mesi perché è ciò che serve all'Italia e all'Abruzzo. Ancora scotta l'esperienza dei titoli subordinati e dei correntisti rimasti coinvolti dal terremoto degli istituti di credito finiti sulla pubblica piazza. Partiti risarcimenti ai correntisti anche in Abruzzo si sta procedendo a mettere riparo alle perdite. Gli investitori che hanno acquistato le obbligazioni entro il 12 giugno 2014 possono chiedere al fondo istituito dalla legge di stabilità 2016 un indennizzo forfettario pari all'80% del valore delle obbligazioni se rientrano in una delle seguenti condizioni, un patrimonio immobiliare di valore inferiore ai 100.000 euro oppure ammontare del reddito complessivo IRPEF nel 2015 inferiore a 35.000 euro. Ci siamo battuti insieme a tutte le associazioni dei consumatori affinché il maltolto sia restituito. Su questo il governo ha cercato di fare qualcosa, non è ancora abbastanza, siamo convinti che bisogna fare ancora di più. In Abruzzo la situazione è comunque meno violenta in altri territori perché esistono soltanto obbligazionisti subordinati che hanno acquisito queste forme di risparmio.